Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Allora, volevo raccontarvi la mia esperienza in curva Vi allego tutti i video che ho fatto per Lazio Inder Che dire, è stata un'emozione fantastica È stato davvero indescrivibile far parte della curva E sostenere quindi i giocatori 90 minuti pieni Pieni, pieni, quindi core, emozioni Qualche impregazione, qualche sclero Insomma, è stato veramente fantastico Inoltre, volevo salutare Salvo Pezzi99 in real Qua su Instagram Un bacione grande Ecco i video che ho fatto Grazie a tutti Non vogliamo questa storia Allora, non vogliamo questa Allora 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 Continua Allora Vogliamola Cerchio Dai Dai Grazie 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 Dai ragazzo Siamo giornati